ciao amici di falpe news ci troviamo a faloppio ora vi faccio vedere l'installazione di quest'oggi che abbiamo appena concluso abbiamo montato delle tende oscuranti motorizzate una figata incredibile gestite con il vostro telecomandino della sonfi oppure con l'applicazione sul cellulare un'altra cosa comodissima per oscurare completamente questa camera da letto adesso vi faccio vedere guardate che bella una tenda oscurante motorizzata questa si chiama cubo 100 perché ha un rullo molto grosso le guide laterali con la chiusura a zip vedete forse si vede qui questa doppia chiusura saldata per resistere molto bene anche le raffiche di vento un colore bellissimo direi meraviglioso e anche il telaio con questo colore marrone che un po bronzato veramente molto chic abbiamo realizzato tutto noi l'impianto anche elettrico prendendo naturalmente dalle prese elettriche che avevamo non era stato previsto in origine e ci siamo dovuti incastrare ma l'abbiamo fatto come sempre molto bene tra ciò che già esisteva quindi le coste dell'impianto d'allarme la zanzariera che c'è proprio dietro la nostra nuova tenda e naturalmente il seramento esistente venite con me che vi faccio vedere all'interno l'effetto che fa anche con questa seconda tenda che abbiamo installato ora ci troviamo all'interno e vi farò vedere il colore del tessuto oscurante dalla parte interna ma soprattutto vedrete come entrambe le tende oscureranno davvero bene questa camera da letto come vedete abbiamo oscurato completamente questa camera da letto raggiungendo il risultato che il nostro cliente si attendeva un totale black out un'assenza totale di luce per poter dormire serenamente e godersi al meglio la sua casa ora con la centralizzazione delle due tende ve le faccio riaprire e vi saluto ripassando la linea in studio ciao a tutti e alla prossima